rg solution è la storia di un'azienda che è nata a villa d'ossola vicino domo d'ossola ci occupiamo prevalentemente della grande distribuzione ci occupiamo della lavorazione dell'impaginazione e la creazione dei volantini pubblicitari i famosi che vediamo nelle cassette della della pubblicità nonché di tutto relativo materiale pubblicitario pop in store della comunicazione locandine manifesti e stopper al prezzo che vengono tutti divisi codificati e consegnati direttamente o ai punti vendita o direttamente il cedi in base alle esigenze stesse del nostro cliente lavoriamo su tutto il territorio nazionale lavoriamo con insegne molto importanti come cop come conad come sigma siamo sicuramente molto determinati siamo molto flessibili siamo molto vicino alle esigenze del nostro cliente il nostro core business è quello della grande distribuzione che prevede un lavoro chiaramente di un dato variabile per dato variabile intendo che chiaramente tutto quello che viene stampato non è tutto uniforme chiaramente quindi appoggiandosi a offset ma il digitale che mi consente di stampare differenziando ogni singolo soggetto che io vado a stampare ed è questa l'esigenza della grande distribuzione in conica sicuramente ho trovato un partner molto affidabile molto veloce perché le nostre esigenze sono molto ristrette anche da un punto di vista della tempistica della logistica per noi è fondamentale io devo prendere devo stampare devo dividere che etichettare codificare e consegnare nel più breve tempo possibile conica e sicilio ufficio sicuramente ci hanno dato un grande valore aggiunto in tutto questo sia come supporto commerciale sia come supporto tecnico ecco che addirittura abbiamo preventivato la terza installazione della macchina quindi siamo partite con la prima macchina non era sufficiente perché abbiamo ampliato il nostro parco clienti la seconda macchina e l'introduzione della terza e nuova macchina che è arrivata praticamente a dicembre del 2023 la regi solution è specializzata nel mondo della stampa digitale in particolare ci occupiamo della stampa della grande distribuzione i formati che stampiamo sono i formati standard che conosciamo tutti il formato a3 il formato a4 il 70 100 ogni mese gestiamo la stampa di 3500 punti l'identità 150 tonnellate di carta e 5000 km se vogliamo parlare di lunghezza attualmente nel nostro reparto di produzione abbiamo tre installazioni di acurio press di per sé la macchina ha una velocità di due pagine al secondo con tre siamo arrivati a 6 e quindi ci permette ancora di più ad essere più efficienti da questo punto di vista il grande vantaggio della stampa digitale è riuscire a gestire dato variabile a differenza dei metodi tradizionali se dovessi stampare 50 soggetti diversi era costretto a fare 50 impianti di stampa diversa adesso con un click in 50 secondi riesco a fare 50 stampe anche sotto il consiglio di sicilio ufficio che il nostro fornitore abbiamo deciso di fare l'installazione della seconda e la terza macchina questo ci ha permesso innanzitutto di triplicare la nostra velocità di stampa quindi da due pagine al secondo a sei pagine al secondo e agevolare sia noi che il nostro fornitore nella gestione dei fermi macchina faccio un esempio switchando per esempio un componente rotto da una macchina all'altra se in questo momento la macchina finisce il toner la macchina continua a stampare se c'è il carrello di finitura pieno in automatico viene gettata fuori ma la macchina continua a stampare se finisce la carta in un cassetto ne ha altri due quindi continua a stampare quindi le pause sono praticamente del tutto annullate il nostro volume di produzione ci ha consentito di fare l'installazione della terza macchina è stato importante avere un partner importante come con i cam in oltre a fianco per poter crescere e quindi in futuro ci auguriamo di fare la quarta e la quinta installazione a Grazie a tutti.